vado 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 e niente neve neve e ancora neve bella ragazzi finalmente sono riuscito a tornare in bici intanto scusate ma non sono riuscito a fare negli ultimi due mesi dei video avrei potuto fare dei video magari descrivendo qualcosa il negozio però di solito facciamo sempre prove giri quindi non potendo andare in bici perché c'è un mal di schiena della madonna ci ho avuto adesso sembra che si sia sistemata la situazione bella giornata peccato che ha nevicato veramente troppo quindi non si è riusciti a concludere tutte le varie discese dovevamo fare abbiamo penato parecchio vai che ce la fai bello aspetta aspetta che 10 e 1 fino alla fine e qua c'è passata una lepre e basta sì dobbiamo fare così scendere lì dove c'è la sella vedi lì è arrivare lì e chiamata più di da spettacolo è l'opente è l'opente Sono rimasto un po' di stucco sul TTX della Hollins che ho montato sulla Eclare sono rimasto un po' di stucco perché? Perché non ho avuto assolutamente la sensazione di quando monto un ammortizzatore che può essere Formula come può essere Fox, come può essere Ken Crick non ho avuto quella sensazione di dire wow la bici è migliorata tantissimo, ho provato la Eclare con l'ammortizzatore base che è il Fox DPS poi ho provato la Eclare con il DPX2 e già c'è un notevole salto di qualità ho provato la Eclare con l'Hollins il TTX e non c'è stato il salto di qualità anzi non mi è piaciuto per niente oggi ho provato la Rocky Mountain perché avevo l'interesse giusto per provare il il nuovo formula lì ho avuto la sensazione di avere un cuscino sotto i piedi una cosa incredibile quindi se devo mettere a paragone tutti i vari ammortizzatori Hollins lo scarto a priori non è una critica verso il mondo Hollins non è una critica severa appunto e basta lo riproverò oggi come ripeto è stata una giornata un po' particolare wow ora ragazzi Sì, sì. ecco lì dobbiamo arrivare a faccio di un bambino ma tanto dentro il bosco non c'è la neve no? no 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 un pelo no 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 no